Il rinvio dell'udienza odierna per quanto concerne il processo Rigopiano era cosa nota ormai da inizio aprile, quando i consulenti nominati dal gruppo Gianluca Sarandrea erano saliti fin sul luogo della valanga per acquisire nuove prove e portare avanti lo studio delle cause del disastro che il 18 gennaio di 5 anni fa portò al crollo del resort Rigopiano e alla morte di 29 persone. Per i familiari delle vittime però il ritorno in aula questa mattina è stato agrodolce. Se da un lato si è preso atto del fatto che il gruppo ha concesso ulteriori 60 giorni di tempo per la consegna della perizia finale che passa dal 12 maggio al 12 luglio, dall'altro per la prima volta ci sarà una calendarizzazione fitta per le udienze. Infatti ad ottobre si tornerà in aula il 26, 27 e 28, poi il 9, il 10 e l'11 novembre. Così facendo si dovrebbe arrivare ad una sentenza finale al massimo per l'inizio del 2023. Come conoscevamo i 30 giorni, non conoscevamo i 60 giorni appresi dai giornali. Quindi siamo scesi qua tutti i parenti e ovviamente per capire per quale motivo non si è capito bene. Anche perché noi partiamo dal presupposto che la perizia fatta dalla procura è più che valida. E siamo convintissimi che tutti gli altri periti, ovviamente i periti del giudice e non di parte, faranno un ottimo lavoro e si alleneranno sicuramente con il Politecnico di Torino. Noi spieghiamo che ci sia le condanne certe. Quindi la chiusura del 2023, oggi hanno fatto un calendario fitto, come chiedevamo dall'inizio, tre giorni per chi viene da fuori Pescara, tre giorni mercoledì, giovedì e venerdì, ci si concentra solo su questo e facciamo un lavoro preciso. La paura della prescrizione, c'è un minimo di possibilità, ma quel minimo bisogna spazzarlo via. Non possiamo tornare a casa con il dubbio di dire ai nostri cari, ai nostri genitori, di dire non sappiamo chi è il colpevole, quindi bisogna sapere se sono innocenti o se sono colpevoli. Questo chiediamo fin dall'inizio, è inutile negarlo. Oggi abbiamo saputo di queste nuove date, che sono molto fitte, adesso bisogna lavorare sul contenuto di queste riunienze, che è fondamentale. Quello di oggi è lo svolgimento di un film, il cui copione avevo immaginato, afferma a fine udienza l'avvocato Romolo Reboa, dato che non ritenevo logicamente pensabile che per redigere una superperizia collegiale sarebbero bastati pochi mesi. Scuoto la testa dallo sconforto, chiude l'avvocato, fotografando la realtà di questo processo, del quale già prevedo quali saranno i tempi necessari per la sua discussione, i quali si dilateranno rispetto alla programmazione odierna.